vorrei precisare solamente una cosa che io dopo la quinta prova del rally di Pico mi sono ritirato solamente perché la macchina aveva dei piccoli problemi e andando avanti non so solamente i problemi fisici mi sono ritirato anche essendo primo di classe dopo la quinta prova mi sono ritirato anche essendo primo di classe niente, volevo ringraziare l'Arte di Gioio Studio, della telecamera e di tutto lo staff e anche il Columbo di Rasensilmi che mi ha buttato una macchina non del tutto al top però mi ha fatto tanto divertire niente, volevo ringraziare il mio navigatore e tutti i sponsor che mi hanno dato una mano anche con tanta probabilità di vingere ma non ce l'ho fatta questa volta ma mi rifarò in avanti il mio navigatore di Gioio? Beh io essendo la prima esperienza l'ansia e le paure all'inizio erano tante logicamente uno cerca di concentrarsi al massimo per poi comunque ottenere il miglior risultato c'eravamo, c'eravamo vicini, la macchina andava come ha detto il mio pilota esperto e pilota da quanti anni? Tanti quindi se le sue impressioni la macchina non andava ci abbiamo provato, l'abbiamo tirato fino all'ultimo alla prova di Castro ci siamo resi conto che la macchina non poteva più andare perché non ce la faceva lui ci teneva tantissimo perché essendo il mio primo rally mi voleva far vedere la figura con tante persone che ci hanno seguito durante il rally, durante le prove, come spettatore, come pubblico e soprattutto come sponsor ci hanno seguito, ci hanno sostenuto a lungo e ci teneva più di tutti lui ha perso logicamente ha perso la calma, l'ansia è tanta durante una gara quindi abbiamo cominciato a sbagliare tantissimo la macchina non era al top delle prestazioni e abbiamo perso tantissimo quindi abbiamo ritenuto opportuno insieme di ritirarci, onde evitare di farci soprattutto male e soprattutto di fare brutte figure con la gente che magari credeva in noi. Questo non significa che ci siamo ritirati definitivamente dei rally noi ci siamo ritirati solamente da una competizione, giustamente perché abbiamo pensato che le gare possono essere mille, dove fare bella figura e una dove non essere al top sia fisicamente che con la macchina divirarsi e dire non è la nostra gara. Quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto e ci salutiamo. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!